One People, One Sky. Questo è lo slogan scelto per l'edizione 2015 del Global Astronomy Month. Un intero mese dedicato all'osservazione del cielo con un programma pieno di iniziative per gli appassionati di tutto il mondo. Che siate astrofili da appostamento notturno, smanettoni dei social o curiosi dell'arte e dal gusto cosmico, c'è sicuramente qualcosa pensato per voi nel GAM 2015. Organizzato dai ragazzi di Astronomers Without Borders, GAM raccoglie decine di eventi. Ne abbiamo scelti alcuni per voi. Stars for all, stelle per tutti, in quella che potrebbe essere una prima mondiale, immagini astronomiche catturate in tempo reale verranno convertite in superfici tattili, permettendo anche ai non vedenti di sperimentare l'osservazione diretta con il Virtual Telescope. Luna è protagonista con la prima eclissi totale del 2015, ben visibile dalla costa ovest degli Stati Uniti. Per chi non si trovi da quelle parti c'è Optics, una partita a tennis con il nostro satellite naturale a suon di immagini, inviate via segnale radio. Protagonisti gli astronauti Charlie Duke e Alan Bean. L'astronomo Gianluca Masi sarà invece online per animare la diretta degli eventi speciali che accompagnano GAM, la online Messier Marathon e il Cosmic Concert, sulle musiche di Giovanni Renz. Naturalmente c'è anche un'app dedicata con sfondi e immagini per i propri dispositivi mobile. Grazie. 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 Grazie.